A febbraio la produzione industriale nel nostro paese ha fatto segnare un aumento dello 0,1% rispetto a gennaio di quest'anno. Il dato su base trimestrale resta però negativo, inflessione dello 0,7%. Il calo tendenziale è del 3,1%, lo rende noto l'Istat. Sono i beni strumentali a fare registrare il maggiore incremento su base mensile, mettendo a segno un più 3,5%. Nessuna variazione di rilievo per i beni intermedi, mentre arretrano dello 0,8% i beni di consumo e del 2% l'energia. Gli incrementi tendenziali maggiori sono per la fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati, con un più 17,2%, le altre industrie manifatturiere e la fabbricazione di apparecchiature elettriche. Le flessioni più ampie invece per tessile, abbigliamento, pelli e accessori, fornitura di energia elettrica e gas, fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche.